È stato sicuramente un pomeriggio emozionante per me. Speravo che non finisse mai la partita con la Reggiana per quanto voglia avevo dentro di giocare quella partita. Vedendo anche lo stadio pieno e i tifosi che ci incitavano nonostante la sconfitta. Quindi sicuramente è un bellissimo ricordo che porterò dentro di me. Sapevo benissimo che la concorrenza, soprattutto al centrocampo, era tantissima. Questo lo sapevi? Sì, sì, mi hanno messo a corrente di questo. Ma nonostante ciò ho deciso di venire qui per una questione mia personale, per vedere se ero capace nell'affrontare questa categoria. Quindi mi sono messo in gioco, mi sono allenato al massimo e il mister all'ultimo mi ha premiato. Capisco bene le scelte che faceva il mister perché tutti gli allenamenti ce li allenavamo tutti quanti benissimo. Quindi capisco che era molto difficile. Quindi è una cosa, un bagaglio in più personale. Ti piacerebbe restare? Assolutamente sì. Infatti sono venuto a gennaio proprio con l'idea di prepararmi per una nuova stagione. Partire da zero, dal ritiro con la squadra, per me è una novità. Quindi ho trascorso questi tre mesi al massimo per migliorarmi personalmente, per affrontare al meglio la prossima stagione.